Ecco la nostra prima concorrente che timidamente vieni tesoro timidamente arriva ciao non aver paura sono brutto ma sono bravo come ti chiami Lavinia da dove vieni da casa giusto da Roma sei contenta di essere qui si vede grazie adesso quel bel ragazzo ti accompagnerà il posto vai con l'applauso del nostro pubblico guarda guarda va beh ma lui è già qui lui è già più grande ciao mi chiama William da dove vieni William da casa pure tu giustamente no sì dove si trova la tua casa però a monte bello a monte bello quindi è per questo che tu sei così carino potrebbe essere senti ma questi capelli chi te li ha fatti te l'ha fatti papà lo sai che te l'ha fatti così perché rosica perché non ce li ha come bello passeggiar con Mary guardate che belli madonna ragazzi il nostro futuro meravigliosi salve un applauso anche a lei facciamo un applauso nome e ma quanti anni hai 5 madonna sei bellissima da dove vieni da sei di Roma italiana nel mondo diciamo sì perfetto grazie mille puoi accomodarti il nostro modello ti accompagnerà al posto ragazzi ma sono giovanissimi veramente è la più bella più bella io ti è io star se te va che devo dire ah il nome come ti chiami Lorenzo ah Lorenzo da dove vieni Roma quanti anni hai sei sei fidanzato no che lavoro fai sto scherzando vai Lorenzo l'applauso ma quanto sono cattivo ma quanto sono cattivo dall'altra parte Lorenzo guarda eccola la bellissima nome vieni amore vieni qui al centro nome Giorgia Giorgia quanti anni hai sette da dove vieni da Tivoli da Tivoli complimenti vai lì insieme al nostro modello ti accompagnerà lui eccolo eccolo salve buonasera e benvenuto nome Damian Damian da dove vieni da Campi Vizenzio quanti anni hai sei bravo sei anni già bello reattivo vai vai ti accompagna la nostra bellissima modella impostazione puoi seguirla lo so che ti piacerebbe restare qui con me ma il tempo è quello che ma guardate signori che abiti in nome Serenella Serenella si che bel nome grazie da dove vieni Tivoli quanti anni hai otto sei meravigliosa vai lì con il nostro modello Serenella si emozionano mi chiamo Raul e ci fa piacere questo da dove vieni dai a Santa Maria delle Mole quanti anni hai sette cosa vorresti fare da grande lo scienziato allora vai inventaci questa camminata vai applauso subito ha risolto lo scienziato ragazzi io veramente non bambini tutti belli non so se sto casting è stato fatto da uomini e donne però veramente facciamo un grande applauso a tutti quanti tutte queste meraviglie nome Adele Adele quanti anni hai tesoro sette sette sai da dove vieni certo che lo sai vieni da da Sansepolcro che bella vai vai accomodati accomodati bravissima bravissima ti c'hai già la fascia da paragnosta eh quanti anni hai tu? 9 9 da dove vieni? Roma come ti chiami? Thomas Thomas sei bellissimo vai applauso a Thomas mamma mia salve salve buonasera nome? Giulia quanti anni hai? 6 6 anni guarda una sembri già una modella da dove vieni? Valeggio sei bellissima anche tu vai a posto vai 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 facciamo vedere queste meraviglie da tutta Italia ragazzi tu hai già i 35 36 anni vero? ne ho 7 e mezzo 7 e mezzo quindi hai vinto te perché se prendo la carta sballo senti come ti chiami? Marco sai che assomigli in bello l'amico Enrico Brignano che ci sta guardando che salutiamo Enrico era così da bambino ha detto vieni da? Roma e hai 7 e mezzo bene quindi non sballiamo andiamo al posto bravo applauso applauso tutti belli tutti belli buonasera buonasera nome? Aurora Aurora quanti anni hai? 6 e vieni da? Roma accomodati lì vai 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 lui è il futuro è il futuro me lui c'ha una parola nome? Lazzare da dove vieni? a Roma da Roma senti quanti anni hai? 6 6 sei un po' arrabbiato? no ah vedi nome eh poi no cosa vorresti fare da grande? militare ah vai vai lì lontano da me così almeno non c'è il rischio che mi spara il militare buonasera you star come stai? bene come ti chiami amore? Greta Greta quanti anni hai? 7 e vieni da? Roma hai degli occhi bellissimi Greta grazie accomodati lì vai vai ti accompagni al nostro modello sei tu la stella più bella you you star salve ciao allora cosa ci reciti? niente almeno stavo lui e lui senti come ti chiami? Kane Kane da dove vieni? Piareggio quanti anni hai? 10 sicuro? sì e cosa ci reciti? niente applauso vai 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 anche al tuo posto andiamo avanti sei tu la stella più bella sono tutti piccoli modelli mentre ne arriva un'altra meravigliosa salve signorina come si chiama lei? Beatrice da dove vieni? Montebello Montebello e quanti anni hai? 6 sei stupenda altro che 6 sei meravigliosa? grazie cosa vogliamo dire agli amici da casa? un saluto fai un saluto agli amici da casa ciao applauso brava brava accomodati segui il nostro il nostro Leonardo Di Capri che poi ho scoperto che si chiama Leonardo Di Capri eeeh bei capelli sai perché si chiama Leonardo Di Capri? perché è il figlio di Peppino Di? bene come ti chiami? Diego Diego quanti anni hai? 7 da dove vieni? Aprilia da Aprilia senti lo sai che mi ricordi un calciatore cosa vorresti fare da grande? dentista che non c'entra niente con calciatore però si guadagnano un sacco di sordi bravo bravo Diego applauso applauso accomodati vai pure il dentista particolare salve buonasera ciao salve nome? Vittoria Vittoria quanti anni hai? 8 da dove vieni? Davide Erbo Davide Erbo sei felice di far parte di questa grande famiglia Yustar? si si vede grazie per essere qui bye ricordiamo che molti di loro sono davvero davvero piccoli ecco tu sei già una modella dove sfili di solito? a casa tua che si trova? si dove abiti? trecate in provincia c'hai tre case? no ah una sola trecate in provincia di Novara bella Novara come ti chiami abbiamo detto? Angelina quanti anni hai? sei sei meravigliosa anche tu accomodati accomodati con l'applauso del nostro meraviglioso pubblico lei è la nostra mascotte aspetta aspetta la nostra piccola mascotte rappresentante come ti chiami amore? Giorgia Giorgia quanti anni hai Giorgia? te a te anni a te anni perché lei è la nostra mascotte ed è bellissima senti vuoi fare un saluto agli amici da casa? cosa vogliamo dire? ciao a tutti? dillo ciao a tutti io vivo a casa mia lei viva a casa sua è qui su questo piacevole spunto puoi accomodarti vai amore segui le tue colleghe vai 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 ti anni bellezza meravigliosa salve buonasera signorina nome? Chiara da dove vieni? Roma quanti anni hai? sette Liban non lo sappiamo ancora vero? quello di papà? il codice della carta di credito? non lo sai mannaggia vai 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 pure vai pure vai pure se riesco a se riesco a trovare il codice PIN salve buonasera ciao come ti chiami? Sofia Sofia come la mia bambina anche mia figlia si chiama così quanti anni hai? nove da dove vieni? da Monte San Giovanni e complimenti ai tuoi occhi stupendi grazie puoi accomodarti grazie mille andiamo avanti oh come bello passeggiar con Mary Mary caranne tra me anche quando è un giorno dai più neri muore il sole fa spuntare c'è tanto bello passeggiarle accanto e non puoi fare o meno di grognir se neri accanto a te ti senti un re il cuore ti batte intanto e fa bene ragazzi l'unica cosa che si può aggiungere a questo momento è meravigliosi un grande applauso ai nostri modelli io vorrei adesso conoscere e farvi conoscere anche i loro nomi Eva Eva da dove vieni? da Roma complimenti guarda che belle Rebecca Rebecca quanti anni hai? sei bella però vieni da? Roma Roma Emma Emma da dove vieni? da Roma da Roma vabbè loro ormai sono i nostri resident nome? Mariano vieni da? Aversa Aversa quindi provincia della Campania Alberto Alberto anche tu da dove vieni? Aversa Aversa andiamo a conoscere queste due bellezze Emi di Mastrantoni da dove vieni? da provincia di Frasinone perfetto Maria Carlotta Reali in provincia di Frasinone questo è un mondo meraviglioso questo è il mondo You Star e vi ricordo che anche tu anzi anche i tuoi figli tuo figlio o tua figlia potrebbe far parte di questa grandissima famiglia e adesso io direi di congedare i nostri amici ma torniamo tra pochissimo facciamo una panoramica dei nostri ragazzi per farli vedere grazie grazie grazie